Diciamoci la verità, soltanto gli imbecilli in tutti questi anni hanno potuto remare contro la prospettiva di una digitalizzazione intensiva del nostro paese, quindi è con grande gioia che ho appreso che il Presidente Monti ha varato un decreto legge, la cosiddetta agenda digitale che porterà l'Italia entro il 2020 ad essere un paese veramente di nuovo che rientra nel mondo, addirittura finalmente dall'anno prossimo i libri di testo nelle scuole dovranno essere libri digitali e non dimenticate che saranno stati 5 o 6 anni fa quando io mi sono presentato in una riunione di editori sbandierando questa chiavetta e dicendo che il futuro sarebbe stato per gli studenti avere tutti i libri di testo dentro questa chiavetta, questa realtà si sta verificando.